Adesso passiamo alla pratica, perdona, eh, hai visto C7 apro, stringi, C7 apro, quando stimolo qui la distribuzione di pelle innervata dal settimo nervo cervicale di destra, il muscolo non tiene, significa che abbiamo un problema con questo nervo qua, ok, rilassato, giù la spalla, morbido morbido, non ti stacco la testa, te lo prometto, lascia, fatto male? No, solo un po' di rumore